Il punto vendita a Crazy House di Siracusa presso il centro commerciale I Papiri compie il suo primo anno. Per questo Crazy House vuole festeggiare insieme i suoi clienti con una grande vendita promozionale sia ad Avola che a Siracusa. Prezzi scontati fino al 60%, un'occasione da non perdere, affrettatevi. Vi aspettiamo ad Avola presso il centro commerciale Il Giardino e a Siracusa presso il centro commerciale I Papiri. L'offerta è valida fino al 30 giugno 2012.